Attilio Urciuolo, e-commerce e web design. Non è mai stato completato, nonostante i lavori affidati alla D'Agostino Costruzioni siano stati realizzati con puntualità fino al 2015. A fermare il cantiere, la concomitanza tra una variante urbanistica approvata dal Comune, la carenza di fondi e alcuni ritrovamenti archeologici. Qualche giorno fa, superate tutte le criticità, c'è stata la ripresa dei lavori. Ora la Commissione d'inchiesta consigliare sulle società partecipate della Regione Campania ha deciso di effettuare qualche verifica su quest'opera, come sta facendo per altre incompiute. Sopralluogo questa mattina a Grotta Minarda del Presidente Luciano Passariello e del membro della Commissione Tommaso Malerba. Così come per Avellino, ci continuiamo a chiedere, io e i colleghi, ma serviva quest'opera? Serve per i cittadini? Se parliamo di snodo per i bus, per i mezzi pubblici, bastava una struttura molto più piccola che poteva essere finita dal 2009, quando è stata iniziata, che è in un paio d'anni. Noi siamo dal 2009 ad oggi fermi per realizzare un centro commerciale, che non è certamente la priorità per l'AIR. L'AIR non è un'azienda che fa profitto privata, ma è una holding partecipata interamente dalla Regione Campania. Quindi anche buona parte dei soldi che ritengono questa azienda anticipato sono frutto a valere su fondi europei di 4 milioni di libracipi e di 6 che sono già stati deliberati in Regione Campania per portare a termine quest'opera. L'aspetto curioso è, vogliamo far sì che questa benedetta provincia possa usufruire di un trasporto pubblico, locale, degno, visto che l'unico mezzo di comunicazione da e per Napoli, e per Roma, e per l'arte elpinia, e per la bassa elpinia, viene servita questa partecipata, che peraltro sembra anche in salute come bilanci. Il nostro compito è fare questo, capire perché queste opere misteriosamente restano catterranie nel deserto, è il termine appropriato, l'hashtag, è il mai finito pubblico. Grazie.